benvenuti ad un nuovo episodio di gong dieci minuti con round two torniamo dopo un giorno di pausa in cui però abbiamo pubblicato la replica audio del nostro Q&A a parlare di attualità cominciamo commentando l'inevitabile ormai insomma attesissimo leak di Ubisoft in realtà non commentiamo il leak in sé anche perché sapete che non ci piace farlo e ieri quando si è iniziato a parlare noi non eravamo anche in diretta abbiamo tralasciato la cosa però commentiamo il fatto che sia nuovamente successo e anche se vogliamo una strategia diversa con cui il publisher stavolta ha reagito a questo leak di che cosa stiamo parlando stiamo parlando del nuovo Assassin's Creed che avrebbe dovuto essere presentato ufficialmente il 10 di settembre durante l'Ubisoft Forward ma appunto come sempre è stato anticipato da una fuga di notizie in particolare è arrivato sul web l'artwork quello che viene definito la key art ok l'artwork del nuovo capitolo con il nome Assassin's Creed Mirage la cosa inedita è stata che stavolta Ubisoft invece che cercare di limitare un attimo la diffusione della notizia è andata in controtendenza e ha confermato il nome del gioco e ripubblicato a sua volta l'artwork che a quel punto è diventato ufficiale rimandando ovviamente tutti gli utenti poi al 10 di settembre strategia che io trovo devo ammettere più efficace rispetto a quella tenuta fino ad oggi ma che comunque non nasconde una colpa evidente a questo punto del publisher nella gestione delle informazioni sì devo dire che è incredibile nel senso che è chiaro che l'industria del videogioco che coinvolge tantissime persone lavoratori sparsi in giro per il mondo pensiamolo anche proprio a livelli diversi cioè ci sono quelli che ovviamente mettono le mani sul codice del gioco ci sono magari concept artist che lavorano in maniera preliminare alla preproduzione ci sono persone che si occupano di adattamenti di localizzazione di doppiaggio ci sono quelli che lavorano magari al merchandising quindi sicuramente tantissimi professionisti che in nazioni diverse e in momenti diversi finiscono a contatto col gioco quindi da un lato è facile che ci siano delle fughe di notizie sì e ubisoft è anche un pochino più delicata da questo punto di vista perché è veramente una compagnia enorme con oltre 20.000 dipendenti e a un singolo gioco di solito lavorano più tantissime divisioni quindi è comprensibile che possa succedere più spesso a ubisoft però la frequenza è preoccupante esatto quello che secondo me passa da ok può capitare a creare una situazione veramente unica e molto comunque allarmante è la regolarità scientifica con cui questi leak bersagliano il colosso francese nel senso che negli ultimi veramente forse cinque anni non c'è stato un progetto grosso loro che non sia stato spoilerato con largo anticipo e un conto tra l'altro sono a volte degli autogol che vengono fatti dagli stessi publisher pensiamo quest'estate a The Last of Us parte 1 pubblicato da sony stessa sul sito di playstation a poche ore dall'annuncio all'interno dell'evento di chili ma forse anche sparks of opera apparso sul nintendo si bravo esatto sì sì esatto e sparks of over ha fatto la stessa cosa con ubisoft quindi se lo sono auto eliccati e vabbè lì può essere diciamo una cosa e anche per sparks of opera è stato a poche ore da quando invece succede con assassin's creed a giorni da eventi importanti cioè in questo caso l'evento del 10 di settembre si sicuramente concentrerà in larghissima parte su assassin's creed e questo sarebbe stato probabilmente uno dei picchi dei momenti più importanti dell'appuntamento stesso e quando succede così sicuramente è un peccato perché ci sono persone che lavorano al marketing e che magari da mesi anzi senza magari che da mesi preparavano un appuntamento del genere che se lo vedono rovinato in questa maniera però appunto di certo ubisoft più di tantissime altre aziende che vengono colpite dai leak ha un enorme problema di fondo che a sto punto io non so nemmeno come potrebbe essere arginabile no diventa veramente complesso capire come possano fare cioè io la trovo comunque una cosa colposa perché se da così tanti anni con metodo succede cioè o non sai da dove arriva il problema o non sai arginare il problema diciamo una cosa fra secondo me l'unica teoria che mi sento un po di smontare lo raccontavamo anche oggi in live è quella del leak falso cioè nel senso di utilizzare quel modus operandi per di fatto dare più newsabilità perdonate il termine alla notizia stessa secondo me in alcuni casi può anche essere successo nella nostra industria in questi specifici secondo me è solo e soltanto un danno per il publisher anche perché pensate appunto al caso specifico l'evento è tra dieci giorni otto giorni sicuramente avrebbero preferito mantenere la comunicazione di mirage in quello specifico contesto ma sì ma secondo me è un danno anche per noi e con noi intendo chi fa informazione videoludica perché è sempre più bello arrivare a un evento con una sensazione di mistero e scoprire i prodotti durante l'evento piuttosto che insomma arrivare lì dicendo adesso ci presentano assassin's creed mirage non è bello fra l'altro appunto prima comunque di passare ad altro parliamo un attimino di mirage quello che si vede insomma è ufficiale l'ambientazione medio orientale è confermata non si sa bene se questo protagonista che campeggia al centro di questo artwork lanciandosi come un rapace sulla preda è basim un personaggio insomma che è stato introdotto in balalla e che dovrebbe essere utilizzato per chiudere il cerchio riportandoci quindi agli assassini che poi originali originali quelli insomma in cui milita anche altair questo lo vedremo però appunto l'immaginario è sicuramente medio orientale ci sta anche secondo me dal punto di vista proprio canonico della saga provare a tornare là dove era tutto iniziato anche perché e qua stiamo parlando di speculazione ovviamente si vocifera che si possa essere un passo indietro rispetto alla tendenza del gigantismo che avevamo visto negli ultimi episodi per magari tornare a concentrarsi su un episodio un po più simile a quelli originali sì io sarei personalmente molto felice di questa cosa in generale secondo me la chiusura del cerchio è anche propedeutica al fatto che poi ubisoft stessa ha confermato che con assassin's creed infinity si aprirà comunque una nuova stagione quindi ci sta di tornare lì dove tutto era iniziato e poi ripartire in modo diverso sì 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 scopriremo come il prossimo 10 di settembre e già che ci siamo rimandiamo a quelli che ci ascoltano in formato podcast recuperate la live di ieri in cui abbiamo riraccontato assassin's creed 2 perché l'abbiamo fatto in un modo non canonico con uno storico yuri un amico che ha raccontato un po il contesto del secondo assassin's creed se volete anche un po una lezione di storia la trovate molto particolare la trovate sul nostro canale twitch video on demand o su youtube nella seconda parte di questa puntata ci spostiamo in ambito microsoft e più specificatamente parliamo di una delle più rappresentative del dell'ecosistema xbox ci riferiamo ovviamente a halo infinite e le notizie non sono proprio incoraggianti perché è stata condivisa ufficialmente la roadmap dei prossimi aggiornamenti e purtroppo quasi tutte le feature che il pubblico attendeva sono state spostate in avanti se non addirittura cancellate come per esempio il multiplayer locale che non vedrà più la luce sono news sicuramente non positive per un titolo che insomma sta vivendo un percorso di vita molto travagliato sì diciamo che in generale la partenza di halo infinite come progetto non era nata già sotto una stella fortunata ricordiamo che il gioco addirittura figura sul packshot della console di serie x doveva esserci al lancio non c'è stato ed è stato pubblicato solamente con un anno di ritardo quando è arrivato effettivamente il gioco poi ci ha estremamente convinto dal punto di vista del multiplayer che era e rimane clamoroso ma ha invece mostrato il fianco a una serie di problematiche che io direi anche sorprendenti per il tempo che hanno avuto per lavorare al progetto e per l'importanza dello stesso ebbene continuano i problemi per 343 industries che non è riuscita a mantenere la roadmap originale e che secondo me anche alla luce della comunicazione di ieri delinea un quadro che non esiterei a definire preoccupante nel senso che si parla di campagna co-op e forgia in beta attenzione comunque in beta dovevano uscire questi contenuti ad agosto e arrivano invece a novembre comunque posticipati di qualche mese e invece la terza stagione dei contenuti che si chiamerà ecos within viene spostata a marzo 2023 considerando che anche la seconda stagione dei contenuti non era esattamente densissima di cose e che tra l'altro non aveva risolto alcuni dei bug iniziali eccetera eccetera devo dire che non butta bene e secondo me è un po' una sorpresa vedere questo impasse nei confronti di un titolo che comunque avrebbe delle basi di gameplay solidissime ma che diventa ancora secondo me più problematico e preoccupante se si considera quella che era l'ambizione iniziale ovvero di come dice anche un po' il nome trasformare infinite in qualche cosa di profondamente duraturo si era parlato addirittura di dieci anni e qui stiamo facendo fatica a reggere dieci mesi perché quello che voglio anche invitarti a commentare magari fra è soprattutto un po' il disinteresse che mi sembra che ci sia attorno ad Halloween che non è riuscito proprio a lasciare il segno no sono sono d'accordo è un prodotto che a livello insomma di gameplay ha fatto vedere ottime cose soprattutto nel multiplayer che in potenza era una delle cose più fresche e divertenti nell'ambito degli shooter online però poi non è stato assolutamente supportato né da una pubblicazione costante di contenuti ma secondo me neanche da una comunicazione da parte di Microsoft che ha un po' tirato il rem in barca non lo so l'ha lanciato e poi non l'ha supportato come dovrebbe secondo me non ha non è riuscita a attivare e conservare la community anche di fan storici e quindi si vede che probabilmente è passata la grande stagione di Halo cioè un brand che è rimasto un po' ancorato al passato che ha fatto la storia di Xbox ma che secondo me fa fatica a fare invece a scolpire il presente dell'ecosistema Microsoft e se fa fatica a scolpire il presente figuriamoci a scolpire il futuro figuriamoci assolutamente fra l'altro insomma questa roadmap quello che un po' mi preoccupa è il fatto che la forgia arrivi in beta a novembre ma che durante la stagione successiva quindi fino a marzo vengano continuati cioè sia continuato a citare un forge beta update quindi secondo me la fase di beta che loro presuppongono per la forgia sarà lunga estesa e duratura e chissà quando finirà e chissà se riuscirà davvero a rilanciare questo multiplayer che sembra in costante moragia di utenti. Aggiungo un'ultimissima cosa mi lascia anche perplesso proprio nella grafica che loro hanno utilizzato per condividere questa roadmap il fatto che la quantità anche per dire di mappe che vengono menzionate di armi eccetera cioè si parla di contenuti in arrivo da qui alla prossima primavera ma non è che sono decine di cose che tu dici vabbò arrivano 20 mappe pensiamo alla roadmap di mario kart per dire cioè lì 40 circuiti dici ok tantissime cose proprio a livello di quantità oltre che di qualità non mi sembra che il presupposto in questo caso sia nemmeno di quel tipo quindi c'è tanto tempo per poi consegnare poca roba e secondo me è veramente un problema irrisolvibile a questo punto. Grazie mille per averci seguiti anche in questo episodio di Gong ci sentiamo come sempre la prossima settimana vi ricordiamo che se volete supportare questo progetto questo è il mese giusto per farlo potete raggiungerci su Twitch e grazie all'iniziativa denominata September potete abbonarvi a costi ridotti quindi se vi piace quello che facciamo vi ringraziamo anticipatamente se volete supportarci anche economicamente grazie